Ma ciao e bentornati in un nuovo video assaggio Oggi ho trovato queste novità, le nuove pie Patatine al gusto di pomodoro e piselli Dopo la sigla le assaggiamo insieme e vediamo come sono queste veggie patatine Allora, apriamole insieme e scopriamo il sapore L'odore è delle patatine normali e vedo che ci sono due colori Il primo colore è questo qui, questo è il formato Non sono né grandi né piccole, è una via di mezzo E credo queste siano quelle al pomodoro Assaggiamo Un leggero retro gusto di pomodoro c'è Assaggiamo l'altro colore che è questo qui Che a me sembrerebbe una patatina normale Allora, non sono estremamente salate, non sono oliose e questo mi piace Ma come sapore mi ricordano le patatine che io chiamo nuvoletta Quelle bianche, light Quindi è quello il ricordo che ho gustandole Sono senza glutine, sono senza coloranti Però sinceramente Io non penso li ricomprerò Perché avevo gustato queste patatine in America E hanno un sapore decisamente diverso E il sapore è proprio, non lo so se c'è, la zucchina è proprio la patatina a zucchina Cioè c'è proprio quello il sapore Questo qui per me no Quindi se le volete provare, provatele Perché sono delle patatine, sono leggere, sono senza coloranti Sono snack con verdure, legumi Ma non mi fanno infazzire Quindi per me è un no Fatemi sapere in un commento se le provate E cosa ne pensate di questa novità Bye Il video assaggio è terminato Vi mando un bacio grande Ciao Ciao